hi guys ho dormito in un posto bellissimo ma c'è un vento gelido questa mattina guardate che bello alle mie spalle sono arrivato ieri sera che pioveva quindi è stata anche la notte un po più difficile per quanto riguarda la logistica perché ho dovuto preparare la macchina tutto dall'interno senza poter aprire e scendere perché se no mi sarei bagnato tutto invece durante la notte si è alzato questo vento che adesso si è abbassato ma questa notte era talmente forte che sembrava che c'era qualcuno che faceva questo movimento qua durante la notte e invece poi tutto sistemato dormito fa freddo ho le mani gelate sono le otto e mezza questo è il panorama il sole sta uscendo fuori dalle nuvole l'alba c'è già stata qui dopo dove inizia la camminata ho visto che ci sono diversi sentieri ovviamente c'è tutta la spiegazione geologica qua c'è tutta la spiegazione che addirittura si parte dagli squali qua si parte dagli squali dagli amicetti squaletti amichetti squaletti e qui c'è il bar ristorante casa vacanze e ci sono vari sentieri a 25 minuti punto panoramico due ore anello della pietra fare tutto il giro della pietra se si vuole venire ci si impiega due ore con questo vento non ve lo consiglio cioè le mani congelate ciao a tutti Grazie a tutti. 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 Spero di non aver perso gli audio dei video che ho fatto, delle clips che ho fatto fino adesso, ma ho quel timore lì perché la GoPro in questi giorni sta per... Anzi, non sta, si sta dando di matto, quindi qualche giorno fa non si accendeva, oggi mi sa che si è bloccato il microfono, non andava più, sta dando i colpi finali forse. Niente, niente, adesso scendo piano piano, niente, 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 adesso scendo piano piano, sto ritornando alla macchina, se sentite tantissima musica, perché ho perso gli audio. Porto di porto di porto, non è un'altro, non è un'altro, non è un'altra, non c'è un'altra, non c'è, come avete visto, non c'è gente, come avete visto, pochissima gente ovviamente giorno infrasettimanale di novembre, tanto che parlo e inquadro, devo guardare dove metto i piedi anche perché è veramente ripida questa scala qui. bel bel posto anche questo qua di Porto Venere let's go guys da questo posto meraviglioso io adesso vi saluto andrò a cercare un posto dove dormire questa sera qua nelle bici danze e vi do appuntamento per il video di domani dalle 5 terre da Porto Venere è tutto, passo e chiudo, ciao! Musica Musica